Benvenuti, questo è il nostro appuntamento con Ben Godi, la trasmissione che dedica ampio spazio alle eccellenze del nostro territorio. Siamo in un'area di Ben Godi e in dubbio guardate che studio allestito con Dovizia perché al centro del nostro viaggio non ci saranno le salsicce legate, come dice il Boccaccio, ai filari dell'uva, ma ci saranno cose concrete, i macellai che inizieranno a lavorare e un collegamento con Roberto Francini che si trova in un'area abbastanza, direi, di basso profilo benché siamo in festeggiamenti, guardate là, ci mancano le renne e poi esce tutto. Dove sei Roberto? Senti Alex, sono nella bottega di Alberto Rossi qui in via Vittorio Veneto e il paese di Ben Godi è questo, se non altro è una succursale di quelle proprio di rappresentanza perché dove mi giro, dove annuso sento delle cose buonissime con dei profumi eccezionali. Oggi vedremo alcune cose pronte per la tavola delle feste ma non solo e poi chiederemo anche delle informazioni proprio su come riconoscere la chianina, c'è anche un discorso sulla chianina che vorrò fare più tardi con Alberto, che si sta cambiando. Bellissimo, grazie Roberto, fa la star. Allora, Macelleria in vetrina è il grande progetto che portate avanti giustamente come associazione dei macellai e in Toscana è una delle cose virtuose per un consumo consapevole. Iniziamo a lavorare per piacere, cominciamo da qua in fondo. Iniziate a lavorare così. Allora, per quanto ti riguarda, lo ricordo, qui alla Macelleria è Gianni e Barbara. Ricorda Barbara, se no ci licenza tutte e due. Gianni, carissimo, che cosa tu andrai a proporre iniziare a lavorare? Io come prima proposta di iniziare a lavorare farei un carré di maialino da latte con scorzette di arancio e mela verde e mela grano. Perché con te parliamo, come con il resto degli altri, dei pronti a cuocere, cioè grandi materie prime come la carne ma che è trasformata da voi. Sì, è ovvio che questo prodotto qua arriva il maialino intero, poi viene sezionato e perciò dopo ricaviamo un prodottino a nostra scelta di come ci va più di lavorarlo per poi dopo dare alla persona che andrà a acquistare il prodotto di potergli dare un prodotto quasi completamente finito che c'è soltanto alla fine da metterlo nel forno. Allora, continuo a lavorare. Qui invece abbiamo la macelleria, siamo in quale area della Toscana? A Montevarchi. Montevarchi, tu chi sei? Perché fai lavorare una donna? Perché è più brava di me. Ma chi è? La moglie, la fidanzata? Da una commessa. La commessa, scusa, chiedo. Allora, tu da Montevarchi, nome tuo carissimo? Andrea, sì, Marco Fantei. Perché dicevi Andrea che era nato? Mi figlio. Ah, ok, Marco, tu sei Marco. Allora Marco, sta facendo che cosa la tua collaboratrice? Un cappone ripieno al tartufo. Allora, voi lavorerete sul cappone, pensate il valore che ha questo tipo di cibo per il periodo delle feste. Ci avete uno stile di metterci dentro, vedevo, delle uova sode. Sì, a piacere ci mettiamo dell'uovo sodo. Questa era la roba che tu mangiavi quando eri più ragazzetto, no? Sì, sì. Era uno dei piatti tradizionali, mi sbaglio. Sì, me lo faceva la mia mamma, sì. Eccolo là. Tu quant'anni hai che fai il macellaio? Io sono 54 anni. Mamma, ciao, pazzella. Allora, dopo parlo anche con voi. Abbiamo gli ospiti dei macellari, della macelleria in vetrina, abbiamo Barbara Lapini che è la dietista, ma prima di lasciare il collegamento sentiamo anche Rinaldo. Tu Rinaldo sei di quale area della... Oh, ho la macelleria a Levane. A Levane. Allora, Rinaldo, tu stai facendo che tipo di piatto? Allora, io avevo proposto di fare questo bollito in galantina, adatto per il bollito di Natale, che poi si può mettere anche insieme, appunto, anche ai cappone o altre carni. Ok, Roberto Francini lì è pronto, ma prima di cominciare voglio sapere da Barbara Lapini, la carne, diamo un'informazione, tu sei la dietista, qua tipologie diverse di carne, al centro del cibo di questo periodo c'è molto la carne. Quindi come consumarla, gentilissima? Beh, consumarla innanzitutto di qualità, consumarla buona e soprattutto ad esempio preferire le carni bianche, ma non così tanto, perché come si è detto è la dose che fa il veleno, quindi si può mangiare tranquillamente la carne nella giusta quantità e nella giusta preparazione. Qui vedo tra l'altro molti abbinamenti anche con verdure, quindi perché no anche la carne? La carne secondo te loro la stanno trasformando, come vedi ognuno di loro sta lavorando, mi piace vedere questi macellai in vetrina che per noi trasformano, preparano, tagliano e realizzano i pronti a cuocere. Questo concetto del pronto a cuocere è legato molto purtroppo al poco tempo che le donne in casa hanno, che è una delle problematiche che voi stesse ricordate. Sì, ma questo diciamo, parlando di qualità, questo tipo di pronta a cuocere è sicuramente un pronta a cuocere migliore di altri che si trovano in commercio preconfezionati, che sono ricchi di conservanti e purtroppo anche di altre sostanze che per farli durare più a lungo e per abbellirli di più possono essere anche diciamo non proprio tanto favorevoli. Roberto è arrivato il tuo uomo vestito? È arrivato Roberto Francini il tuo uomo? Sì, 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 è perfetto, è in divisa perfetta, solo in divisa perfetta perché qua c'è tutto lo stato. Roberto è di fare una finocchione in salame, non vorrei dirti che... Con un prosciutto nel capo, sì, sì. È un meraviglioso, guarda che spettacolo. Alex, la prima cosa che voglio chiedere a Alberto, come fai a fare i resti che qui non c'è spazio. Roberto, scusa, Roberto, fermo, fategli l'applauso per piacere che è arrivato il Divo, grazie. Ehi, il Divo è arrivato, eccolo là, l'applauso dello studio, prego vada. L'applauso dello studio, prego vada. Allora, prima cosa, buonasera, poi vorrei cominciare con una cosa per te, stai tranquillo, mi raccomando, non esageriamo, stai calmo. No, si parlava, sentito in studio, si parlava molto dei pronti a cuocere, qua c'è un tripuglio di colori, di preparazioni, di fantasia anche, ma è quello che chiedono i clienti. Ma allora, credo che ormai un po' tutte le macellerie si sono evolute nelle preparazioni, ormai da tanti anni. Io ho iniziato negli anni Ottanta e quindi ormai la fantasia ti viene anche lavorando, preparando le cose, perché provi anche a fare degli abbinamenti di verdure, di formaggi, di agrodolce. Cioè, diciamo che è diventato un po' un divertimento per noi fare queste preparazioni e abbinare proprio, per esempio, la frutta alla carne e le varie verdure. Le signore dicono sempre, non so cosa fare, mi dia una fettina tenera, qui la fantasia, voglio dire, puoi chiedere qualsiasi cosa. Le domande sono due che sono le principali. La prima è quanto ci vuole a cuocere quello, perché se si sfora a quarto d'ora siamo già fuori budget, non se ne parla. Bisogna stare su cose, infatti, oltretutto, sta andando sempre più di moda il finger food e macelleria, ovvero, o dei prodotti da consumare all'istante, quindi piatti freddi o tartare o carpacci, oppure delle cotture velocissime, che chi va a casa, arriva, ta, una spadellatina e via. Poi, chiaramente, fine settimana, le feste, allora si passa a cose. Sì, perché tra poco saremo anche nel periodo della tavola delle feste, ancora non c'è, c'è qualche accenno come un alberino di Natale, ma la tavola delle feste del Natale è un'altra cosa. Questo è un banco che, chiaramente, oggi abbiamo un attimino più curato, perché magari nei particolari, però generalmente è il nostro banco. Ok. Il nostro banco è tutti i giorni, dove ci sono delle preparazioni veloci, preparazioni un pochino più lunghe. Ho fatto qualcosina che è un pochino più inerente al Natale, per dare un po' l'idea delle feste. Però questo è un banco tradizionale. Allora, tanto torniamo, Roberto, con voi, eh, siamo di nuovo in collegamento fra poco. Alberto, segui ciò che dicono i tuoi colleghi dallo studio. Macelleria in vetrina, tu stai portando avanti. Allora, comunque questa cosa di macelleria in vetrina, quanti, siete molti macellai associati in tutta, siete un campione test in Italia, fra l'altro, mi sbaglio. È una bella cosa che viene fatta in provincia. Sì, abbiamo fatto la prima provincia in Italia, abbiamo fatto anche un portale dove anche le altre province... Sì, aspetta, aspetta, parlavo sul mio, ma io mi sono dimenticato io, mi grazie, scusate ragazzi. Dove anche poi le altre province è piaciuto il nostro progetto e sta diventando anche una cosa a livello nazionale. Tra l'altro ogni macelleria ha uno stemma specifico sul fondo nero che ricorda questa... Sì, abbiamo nelle vetrine, diciamo, il logo delle macellerie in vetrina, che è legato, diciamo, alle macellerie che hanno voluto partecipare a questo progetto. In più al progetto delle macellerie in vetrina, come dicevo, è stato fatto questo portale dove tutti gli utenti possono andare a vedere... Che è macellerieinvetrina.it? Bravissimo, che è macellerieinvetrina.it. Ok, quindi non so se la regia può, poi dopo magari lo facciamo vedere. Che lavoro hai fatto qui, scusami carissimi? Io alla fine è venuto fuori questo lavorettino qua che sarebbe un carré di maialino da latte che è stato ornato con scorzette di mela verde e arancio e melograno. Bellissimo, guarda che lavoro. Tempo di cottura qui? Il tempo di cottura va messo in forno, perché questo è un prodottino, diciamo, da forno che andrà tenuto un'oretta coperto con un pochino di carta stagnola per poter arrivare un pochino meglio al cuore della cottura. Poi una volta levata la carta stagnola va rimesso nel forno fino a che il maialino con la sua cotennina e tutte le sue parti non diventano del colore più bello e più idoneo per poterlo mangiare. Bellissimo lavoro. Qui invece abbiamo nell'area del Valdarno il nostro... amico che ha preparato questo, che è un cappone... Un cappone in galantina. Guarda, un cappone in galantina c'è dentro, in pratica c'è... C'è della vitella di latte, del maiale magro, della lingua salmistrata e il tartufo. Qui alla fine dentro, avendoci anche l'uovo sodo, diventa proprio questo un cibo della festa. Toglie le ali e poi lo fa fettere, lo fa freddare. Pazzesco questo. Fra l'altro tutti gli ingredienti principali sono anche presenti qua sopra. Utilizzo gli ingredienti per quanto ti riguarda, si trovano bene, si trovano male, ingredienti di qualità? Sì, si trovano sì, vengono da me, insomma. Ah dai, c'è subito fatta la pubblicità. Cioè, vedete i valdarnesi come sono. Informazione da Rinaldo, così poi parliamo dei prodotti. Stavi, ti sei fermato perché stai facendo cosa Rinaldo? Stavo pulendo, siccome mi è venuta la signora accanto, allora ho levato un po' più di grasso. Ok, ah perché era la dietista, l'hai tolto il grasso, sei meraviglioso. Rinaldo è meraviglioso? Eh, ho detto leviamo, l'avevo lasciato perché magari avevano lasciato, conferiva al brodo un po' più sapore. Cioè non siamo troppo radicali. Ma avete messo la signora accanto e ho detto è meglio non ristiare, l'ho levato. Toleranza, poi per le feste, un prodotto di qualità, quando è un prodotto con una carne seria, amico Rinaldo, che stiamo a ragionare. Roba nostrale, va buono. Sì, da levano. Allora, qui hai fatto, stavi facendo, finendo come? Lo stavo ripulendo e ora lo sto farcendo, lo posso fare. Ma muovite perché qui manca minuti, ma che aspetti la notte? Rinaldo si è fermato, guardavi la lapida, che sei innamorato della dietista? No, 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 sedano, carota, cipolla. Guarda che se uno esce con le dietiste queste figlie fanno fare la dieta. Sedano, carota, cipolla. No, tu sei sposata, Ivan, no, però le dietiste non sposate, escono e non se le mangiano. Sono quelle persone, diciamo, che stanno a dieta, quell'altro no. Hai capito, Rinaldo? Sì, sì, ho capito. Allora, sedano, carota, cipolla. Come hai detto il tuo marito? Il marito mi ha conosciuto prima. Prima di essere dietista, ok. Allora, mentre Rinaldo continua. Continuo. Fai, poi ci metti in fai e vai. Meraviglioso, Rinaldo. Allora, qui questi due uomini ho, perché voi siete legati, avete una partnership con anche macelleria in vetrina, no? Parto da lui, Canti, che dici? Parto da Rossi. Allora, qui abbiamo dei prodotti in primo piano e fra poco ci ricollegheremo anche con Alberto, degli affettati là davanti a noi. Prodotti della Villani, solumi della Villani. Come mai avete fatto questa partnership così importante voi in questo territorio? Ormai è diversi decenni che ci lavorate, no? La Villani qui su Arezzo è una realtà importante, grazie appunto alle macellerie, ai clienti, ai clienti della tradizionale. Villani è un'industria alimentare che però produce in maniera artigianale. Vi possiamo far vedere in primo piano, se c'entrate con una camera, ve li ho girati apposta, guardateli là bellissimi, c'è problemi per lì. Ok, dopo semmai. Mi piaceva l'idea di comprendere che la qualità è ricercata dalle materie prime, da voi, da sempre. Si parte dalle materie prime, sì. Qui abbiamo portato i fiori agli occhiello dei nostri prodotti, sia come mortadella che come prosciutto cotto. Abbiamo il prosciutto cotto, il nostro prelibato, che a mio giudizio è il miglior cotto che oggi si può trovare sul mercato. È un prodotto che è fatto con suini di filiera controllata, certificata, dove l'allevamento viene fatto in modo non forzato. Il consumatore, hai visto com'è asciutto quel prosciutto cotto, l'hai visto com'è asciutto, non è molliccio, non è plasticato. Ragazzi, quando ho comprato una roba di qualità... E purtroppo, purtroppo le immagini non rendono quanto poi invece rende il sapore. Gustarlo è veramente... Stato spettacolo. Lascia decisamente senza parole. Ascolta, tu invece, una cosa che... Parlavamo prima della qualità e qua c'è da parte dei formaggi, perché voi avete la partnership con i macellai, ma da sempre siete, direi, per l'eccellenza del territorio, ne avete... Tu quant'anni sei? Io sono appena 36 anni. Qualche domanda te la devi fare, eh? Qualche domanda me la devo fare, ma ormai ho smesso di farmele, perché a questo punto qualsiasi domanda di domande sono finite. Ecco, questo rapporto che si ha con, per esempio, il formaggi, voi siete un'eccellenza anche italiana, per un'esclusiva, io ho messo una coppa di vino qua, perché avete, state brevettando, avete chiesto un brevetto. Raccontami, perché parliamo di eccellenza assoluta. Sì, allora, chiaramente in una tavola imbandita credo che non possano mancare i formaggi. La ricerca che abbiamo avuto in questi anni nel cercare l'eccellenza degli stessi ha portato a far sì che venissero fatte, oltre a delle affinature che magari tutti possono conoscere, come, per esempio, pecorino affinato sotto noce, sotto fieno, sotto ginepra, eccetera, a delle ricerche ancora più evolute che sono proprio dei prodotti lavorati in caldaia. Mi spiego meglio. L'idea nasce dal famoso detto toscano, al contadino non far sapere quanto è buono il cacio con le pere, ci viene in mente, un po' di anni fa, di trovare un abbinamento pecorino-pera. E ha funzionato? Ha funzionato, è stata una cosa che, tra l'altro, abbiamo portato avanti a livello qualitativo e un prodotto unico assolutamente particolare. Un prodotto del quale, un po' di anni fa, insieme agli altri prodotti sempre lavorati in caldaia, poi se volete vi spiegherò il concetto, che sono pecorino a chianti, pecorino a grappa e pecorino a figo, l'abbiamo chiesto il brevetto e miracolosamente ce l'hanno accorgato. Allora, dai formaggi della Cantier Rossi, che sono partner del progetto Macelleria in vetrina, giusto, siete partner, ho detto bene, no, partner, mica fidanzati, solo partner, solo partner, Rossi? Alberto Rossi, loro sono solo partner, non sono fidanzati i tuoi, eh? Un saluto a Alberto e a Roberto. Va bene, va bene, ma io posso fare una cosa mia? Fa che te pare, che ti devo dire? Alex, ti permetti? Vai, che fai? Non ti sento. Sì, ti ho detto che puoi fare quel che ti pare, più di così che ti devo dire. Siamo noi? Sì, sì, siete voi. Sì, no, non ti sto sentendo appunto in ritorno. Volevo ringraziare e fare una, così, una piccola cosa pubblica a Cantier Rossi, perché mi hanno fatto testare una ricotta che loro stanno prendendo dalle parti di Roccastrada, quindi in Maremma, e devo dire che era eccezionale. Vabbè, questo era un piccolo particolare. Ma qui abbiamo Andrea, che è uno dei figli di Alberto, c'è Marco e poi c'è Andrea, che sta facendo un lavoro, secondo me è pericolosissimo, ma le dita sono tutte? Sono sani. Sono sani. Come fai a lavorare col tuo babbo che è un personaggione? A volte risulta anche difficile perché è sempre una rincorsa, correre dietro non è facile, però cerchiamo di imparare più che altro, apprendere gli insegnamenti e cercare di portare avanti nel miglior modo possibile insieme a lui l'azienda di famiglia. Ecco perché tu Alberto sei molto esigente, insomma con loro, la qualità innanzitutto, la scelta delle carni, stanno imparando diverse cose questi ragazzi. Ma senti, io credo che lui ormai è un po' un veterano perché sono 18 anni che lavora qui dentro, quindi è 14, insomma, si trova dopo diventa troppo vecchio. E credo che sinceramente per quanto riguarda anche le preparazioni, le cose sono più bravi di me perché io lascio sempre più spazio a loro, l'azienda è loro e devono essere loro a portarla avanti. Sicuramente sono rompiscatole qui dentro perché so quello che ha sempre l'idea di fare chissà cosa, di andare a fare, cercare sempre di migliorare l'azienda e giustamente loro sono giovani, hanno bisogno di questo spazio, però devo dire che l'azienda in questo momento qui la mandano avanti più loro. E' importante che gli hai trasferito una filosofia della qualità. Io ho cercato sempre di, questa è una cosa principale, infatti io dico sempre, e questo lo dico sempre a nome di Macella e lei che rappresento, tra l'altro sono fresco di rinnovo, di incarico, quindi li ringrazio anche per la fiducia, ma dico che ormai noi siamo rivolti al futuro però con lo sguardo sempre al passato perché la nostra tradizione è la carne, quindi lavorare la carne è il nostro lavoro principale e lavorare la qualità perché tutto parte dalla materia prima, non si può fare delle cose belle da vedere che poi non si può fare. Ad esempio questa cos'è? Una tartare? Questa è una tartare che Andrea ci sta tagliando a mano, ci fa una battuta e poi dopo ce la condisce in un metodo classico con del capperi salati, pochissimo aglio, olio, limone, del pepe verde e, mi scordo qualcosa Andrea? E prezzemolo, e prezzemolo, olio nuovo naturalmente. Per mangiare una carne così condita e cruda deve essere una qualità assoluta? Allora, generalmente noi si lavora molta chianina ma non solo chianina perché di carni buone ce ne sono tante, però generalmente quando si parla di carni crude, di tartare, carpacci, si cerca sempre di usare la chianina che è un prodotto che dà comunque delle garanzie a livello di un disciplinare, comunque se adesso che è un consorzio, ci sono caratteristiche. Torniamo fra poco, facciamo breve pausa? Sì. Va bene? Breve pausa Rossi? Sì, noi ci trasferiamo nel laboratorio. Sì, ascolta, digli che si cambi perché come le star ogni blocco cambiano il vestito, capito Rossi? Te ce l'hai un altro vestito da cambiare? Andiamo nel laboratorio, c'è una tuta apposta. Ok, va bene. Alex, non ti approfittare perché dopo ti guardo. No. 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 No.